I ladri hanno fatto irruzione in una villetta di via Francesco Baracca Preganziole, probabilmente nella mattinata. Hanno atteso che i proprietari fossero usciti e poi hanno forzato la serratura della porta sul retro. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto fino a quando hanno trovato la cassa forte con dentro gioielli e orologi. Secondo i carabinieri all'esterno sarebbe rimasto un complice a controllare che non ci fosse un rientro anticipato a casa della famiglia. Secondo le prime indagini i ladri potrebbero far parte di una banda dell'est Europa specializzata nell'aprire con flessibili le cassaforti a muro. I malviventi si sono poi allontanati tra i campi che circondano la villa con un bottino di circa 50 mila euro. Immediata la denuncia dei proprietari, le indagini dei carabinieri.